E' terminato intorno alle 2 di notte l'incontro tra il Pescara e il Bari per Cristian Galano. Il direttore sportivo Polito è stato a confronto con il suo monimo Matti Assi e il presidente abruzzese Sebastiani. I bianco-rossi hanno trovato l'accordo per il grande ritorno di Galano all'ombra del San Nicola. In questa stagione ha collezionato 10 presenze e un gol tra Campionato e Coppa Italia con il Pescara. Società che nei giorni scorsi ha annunciato anche l'arrivo di Raffaele Maiello dal Flosinone dopo il presso all'Empoli in Serie A dove gioca 13 gare in una stagione e mezza, si trasferisce nel gennaio del 2017 al Flosinone contribuendo in maniera determinante alla promozione dei sociari in Serie A. Con la maglia flusinata in 165 partite e 29 in massima segnando 6 reti in 5 stagioni. La Vibonese si muove per rafforzare la squadra in queste ultime ore di trattative. Il club del padron Caffo è in trattativa per acquistare Matteo Panati, esterno offensivo classe 2001 della Lucchese. Saluta il monterosi l'estremo difensore Giuseppe Marciano che rientra al Fosinone dal presto. Ha salutato il Pescara per dire sì il messina il centrocampista messinese Giuseppe Rizzo che ha fatto già il suo esordio al pari dell'ex avelino Riccardo Burge di proprietà dell'Atalanta e Reduce dall'aspirenza in presto alla Piacenza. La Paganese ha annunciato la risoluzione del legame contrattuale con il calciatore Edoardo Bianchi che ha già salutato la staff contribuendo alla sua esperienza con la maglia azzurro stellata. In scadenza giugno con Latina Giuseppe Nicolao potrebbe lasciare il club pontino. Avanzano Fermana e Monopoli sono in pole per assicurarsi il terzino sinistro. Grazie mille. Grazie a tutti